sta avventurando in una scalata per capire un'immagine di Dubrovnik da un punto strategico oltre che scalatore in bicicletta è anche scalatore con tuta da moto e stivali va là dietro ha detto di stare dov'è che non ha detto di stare attenti alle mini anti uomo? era qua? e qui ha bombardato questa città ha bombardato? quando avevamo il governo d'Alema abbiamo partecipato alla guerra questa è stata bombata bombardata? si si bombardata dai serpi o dai croatti ci abbiamo dietro la gente li facciamo spostare? li mandiamo via? adesso li buttiamo giù porca miseria oggi ho le mine anti uomo ci sono le mine ci sono le mine anti uomo tutti? tutti ehi ma sono grossi eh sono grossi eh sono grossi eh un po' grossi ahahahahah 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 ci l'hai lo zoom? lo beccate? è già zoomato è già zoomato lo sto basta dove vai? no perché deve prendere l'angolo ah? oh Dio poi come scendi? da dove hai salito? ah di lì? scendere si riesce sempre eh ma col tenere 1.2 ah quello l'altro è 1.2 passato là eh c'è il canocchiale la prossima volta la visitiamo beh dai così sembravamo in tanti zoom oh mia che caldo però ci si ferma un attimo si schiatta ehm? tutti che fotografano mi fotografiamo ma che bell'isolotto lì eh, ma c'è anche una casa ci vanno in barca eh sì quella crociera vieni qua caldo eh, adesso l'Alvaro ritorna dalla sua uscita in trekking l'Alvaro ritorno